È giulio 13, 2017, in Camignone di Passirano, Brescia, Italia. Un po' immagini di Isade Camignonissima. Siamo qui con l'italiano scrittore, scrittore, comedio, presentatore tv, attore, scrittore, e former football player Gene Gnocchi. Ciao Gene, come sei? Beh, io sto bene, anche se in questo momento ho un impegno molto gravoso, sto cercando di imparare l'inglese con il corso della Scuola Radio Elettra di Torino, solo che mi hanno mandato le dispense che usa solitamente Alfano, e quindi è un procedimento molto lungo e molto impegnativo, perché con quelle dispense lì si fa molta fatica di imparare l'inglese. Per il resto direi che sono contento di quello che sto facendo, ho due figlie piccole che porto quotidianamente alle giostre, e mi piace molto perché vinciamo i buoni omaggi e recuperiamo dei pupazzetti che poi io vendo su Amazon a dei prezzi decomplicati. grazie 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 a tutti.